Anche in Abruzzo si registrano proteste contro l'obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro e sul piede di guerra ci sono gli autotrasportatori. Nei porti di Ortono e Vasto, al contrario di Trieste e altri scali nazionali, la situazione è tranquilla poiché gran parte degli operatori e dei lavoratori è in possesso della carta verde. La decisione del governo Draghi di rendere il Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori sta suscitando reazioni in tutta Italia. E al porto di Trieste in alti scali la protesta potrebbe andare avanti ad oltranza come quella degli autotrasportatori. Luciana Ferrone è l'imprenditrice del settore logistica e presidente della CNA FITA Abruzzo che rappresenta gli autotrasportatori. La carta verde richiesta soltanto i lavoratori italiani, questo ci risulta e non ha quelli stranieri e sta fortemente penalizzando le attività. Ma oggi l'autotrasportatore italiano senza Green Pass, l'autotrasportatore abruzzese, secondo le regole, se non effettua il tampone deve essere sospeso dall'azienda. Qual è la situazione qui in Abruzzo? La situazione in Abruzzo è meno grave di quella del territorio nazionale perché diciamo che il nostro territorio è un territorio un po' più piccolo dove i siti industriali sono forse un po' minori rispetto a un'area geografica che può essere quella lombarda o quella piemontese o quella dell'Emilia Romagna. Il problema è nazionale perché il nostro governo ha emanato questa circolare in cui nessuno può entrare in un sito produttivo logistico se non munito di Green Pass. E' una cosa giustissima per l'amor del cielo, personalmente non sono un Novax. Il problema è che noi abbiamo nel settore trasporto merci su strada un problema che si chiama carenza autisti. I nostri autisti nel settore logistico sono costituiti maggiormente da personale extracomunitario che non so per quale loro filosofia sono sostanzialmente dei Novax. Quindi siccome l'offerta è inferiore alla domanda, oggi si sono fermati tanti autisti, quindi sospesi, senza retribuzione, tutto quello che vogliamo, ma di fatto si sono fermate anche le merci in un contesto dove il problema della manovalanza, della guida di tir era già fortemente sentito dalla nostra categoria. Ci sono aziende disposte a pagare a proprie spese i tamponi per poter far lavorare gli autotrasportatori che non hanno il Green Pass? Assolutamente sì, noi lo stiamo facendo. Noi abbiamo un sito logistico importante a Piacenza e abbiamo pagato ai nostri autisti i tamponi, ma i tamponi sono per 72 ore e comunque c'è un problema di accessibilità perché si possono fare questi tamponi su prenotazione, dato il periodo tutti sono condigendati e quindi praticamente non troviamo spazio, posto, bisogna prenotare. Quindi noi come azienda abbiamo messo a disposizione il tampone gratuito per chi è stato già vaccinato della prima e che quindi è in attesa della Green Pass. Però ci sono quelli che sono decisamente Novax purtroppo.